Grazie Presidente, brevemente solo per ringraziare la consigliera Celli per aver portato questa problematica qui in assemblea. Non conosco la realtà personalmente, anche se non sentivo parlare come una realtà che effettivamente produce un impatto molto positivo sul territorio. Tuttavia io credo che prima ancora di andare in aiuto in soccorso della realtà X o della realtà Y, per quanto stimabile sia importante dettare la normativa e l'impasse in cui sono in corsi gli uffici senza aver letto nessuna carta, ma così ha intuito. E' una regolamentazione, credo che anche per questa realtà sia importante l'adozione del regolamento sui beni indisponibili di Roma Capitale, cosa che era già stato anticipato in una commissione, è stato protocollato e che sarà oggetto di numerose commissioni. Io spero che ci sia la condivisione più ampia possibile, per cui su questo atto ci asterremo, però riconoscendo il fatto che come questa situazione ce ne sono molte altre. Grazie.